Abbiamo fatto una nuova legge europea molto importante che garantisce più protezione ai consumatori. Innanzitutto vietiamo di informare o di promuovere dei prodotti che sono a obsolescenza programmata senza che sia questo chiaramente spiegato ai consumatori. Sappiamo benissimo che tutti noi siamo vittime di prodotti che potrebbero durare molto di più, durano di meno perché sono concepiti per cessare l'attività, morire prima del tempo e non siamo informati. Quindi informazione è di vieto di promuovere dei prodotti che sono a obsolescenza programmata senza piena informazione dei consumatori e anche lotta a tutte queste rivendicazioni verdi. Di tante volte ci viene presentato un prodotto l'ultima innovazione nella lotta contro la transizione ecologica. Tutte balle, non è vero. Semplicemente si usa spesso la transizione ecologica per esaltare delle caratteristiche di sostenibilità di prodotti che invece sono prodotti perfettamente normali. Tutto questo verrà vietato. Diamo la possibilità ai consumatori di essere molto più informati e quindi di poter scegliere quali sono i prodotti sostenibili, quali sono i prodotti a obsolescenza programmata e quindi non solo dare più scelta ai consumatori ma darci la possibilità di contribuire attraverso la libera scelta alla transizione ecologica e all'economia circolare.